Buongiorno a tutti, eccolo qua, un Umbro che apparecchia, di una certa età. E voi, che cosa ne viene pensato di fare? Tipo, così. Ma lì, Enrico dello stronzo! Così lo vuoi dire? Fermate, sciacca di coglione! Il rubatore... Eh, mannaggia! Eh, no! È un tipico comportamento Umbro questo. Si incazza perché tu apparecchia e dopo gli fai così. Si, guarda, guarda che casino! Ma guarda quanto sei stronzo! Ma che è successo? Ma non mi resta a fare che ho da mettere la bottiglia! Ma dove? Dove è da mettere? Un tuo culo la mette! Ah, allora, proveci, ma è larga! Ma questo è... Mannaggia, il carattere di strada! È tutto preciso. Eccolo qui, con il suo pasto quotidiano. Lui può fare cinque pasti al giorno e la pasta con il tonno è un tipico piatto delle dolomiti. Lui sta mangiando e arzugando e loro lo sanno. Sta arzugando tutto, il tonno, il tonno che va proprio lì nel mare e viene pescato. Perché anche noi siamo dei pesci e ci pescano e loro lo sanno. Eccolo qua, mentre ancora mangia tutto qua. E' larga di coglioni! Cos'è succe! Ma se mannaggia questo! Eh no! Ma che me ne è cascato un pezzo! Voi è andato a riguardo! Ma almeno lo digerisci! Ma era per digerirlo meglio! Dio! Dio qualcuno! Ma non lo ammetti! Dio! Grazie a tutti.